Musica Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. E' seriamente preoccupante l'escalation di violenza tra i giovanissimi dopo il ferimento del ragazzo a Marecchiaro che versa in gravi condizioni fermato un 16enne. Un 15enne è stato fermato nell'ambito delle indagini sull'accoltellamento di due minorenni avvenuto domenica mattina a Napoli. I due giovani di 16 e 17 anni sono stati accoltellati durante una lite scoppiata sugli scogli di Marecchiaro. La lite è avvenuta dopo uno scambio di insulti e minacce sui social tra due gruppi di giovani. Il 15enne è accusato di tentato omicidio ed è legato a un esponente di spicco della camorra. Il giovane è infatti figlio di un boss del clan lorusso attualmente in carcere per scontare l'ergastolo. I ragazzi avevano già litigato mesi fa su Instagram e TikTok e quando si sono incontrati sugli scogli sono passati ai fatti. Toccherà gli uomini della squadra mobile di Napoli ora a stabilire l'esatta dinamica dei fatti. Un secondo giovanissimo sarebbe indagato ma al momento a piede libero per aver partecipato alla lite ma non per aver sperrato i fendenti. Sono state raccolte anche le testimonianze di chi era presente al momento della lite. I testimoni hanno parlato di scene raccapriccianti a cui hanno assistito durante lo scontro tra i due gruppi. Restano intanto gravi le condizioni dei due ragazzi accoltellati entrambi all'addome. Vediamo insieme ancora questo servizio. Coltelli, risse, delinquenza, scippie e rapine anche nelle zone definite il salotto buono della città. C'è un'emergenza criminalità giovanile dilagante e seria a Napoli. Negli ultimi tre giorni diversi episodi, differimenti e risse hanno insanguinato le vie della Movida e alcuni lughi simbolo come Mare Chiaro e Posillipo. A margine di una conferenza stampa in prefettura, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca chiede tolleranza zero e pugno duro affermando che il patto educativo firmato pochi giorni fa con l'Arcivisco Battaglia sicuramente da solo non basta. Stiamo facendo di tutto per il lavoro di accompagnamento che è sicuramente prezioso, cioè di formazione, di educazione, di socializzazione. Però si arriva a un punto nel quale devono intervenire i carabinieri senza tanti fronzoli. Perché quando hai uno che mette a rischio la vita di un proprio coetaneo per un cellulare, ebbè non c'è più da scherzare. Allora bisogna mandarlo in galera. Punto. Tutto il resto sono chiacchie. Nel frattempo però la gente in città ha paura, soprattutto gli esercenti, chiedono risposte. Il prefetto Palomba. È un problema molto più ampio. Sui minori bisogna agire in un certo modo. Lavoro che è iniziato già da tempo, ovviamente, e che proseguirà anche grazie a questi strumenti, che non sono solo strumenti di controllo da parte delle forze dell'ordine, ma di controllo un po' più ampio, soprattutto a livello sociale. Il disagio sociale fa nascere queste cose. Cioè andare in uno scoglio armato di un coltello, non so fino a che punto sia un problema solo di ordine pubblico, ma evidentemente ci dobbiamo interrogare anche sotto altri profili. Cosa che stiamo facendo, anche grazie all'eccezionale contributo che il nostro archivesco sta dando, è un lavoro che richiede tempo, ma che vedrà tutto il nostro impegno. Cambia l'agricoltura con tecnologia ed innovazione. L'Italia metterà a disposizione il clima e i terreni coltivabili. Israele, circondata dal deserto, invece, a disposizione metterà le sue tecnologie nel campo dell'agricoltura. Nasce così a Napoli, nel polo universitario di San Giovanni a Teduccio, l'asse tra i due paesi per rispondere alla crisi internazionale di risorse alimentari provocata dal conflitto tra Russia e Ucraina. Ad aprire i lavori il rettore della Federico II, Matteo Lorito, il sindaco Manfredi e l'ambasciatore di Israele, Dron Reidar. Napoli e Israele oggi sono al centro dell'avanzamento tecnologico in un campo fondamentale, non solo per il cibo ma anche per la pace, perché più cibo e più cibo di equità significa anche pace. Napoli si candida ad avere un ruolo centrale a livello mediterraneo in questo tema, che è uno dei grandi temi, forse il più grande tema del futuro. Questo non è solo business, questa conferenza è anche una speranza. Il vertice Tech Agriculture arriva in città pochi mesi dopo le proteste per i rincari sul costo di pasta e pane e gli scioperi dei produttori che chiedevano alle istituzioni locali il ritorno alla produzione di grano nella regione Campania. E sull'argomento abbiamo intervistato il presidente di Confagricoltura Gian Santi. Sono state fatte delle scelte sbagliate, lo dobbiamo dire, ma sono scelte di programmazione che vengono fatte ogni cinque anni e quindi se si guarda ad esempio il grafico delle produzioni, come sono scese le produzioni dei principali prodotti di base, il mais, il grano tenero, si vede che ogni cinque anni ad ogni scelta politica diminuisce la produzione di questi cereali a livello europeo. Perché si è forse ritenuto che era più giusto farlo in altre parti del mondo, chissà, certo è che abbiamo fatto un errore. Tre i ministri intervenuti, alle politiche agricole patuanelli, agli esteri di Maio e per il sud della cosiena territoriale, Mara Garfagna. Il superamento del set aside, la sospensione dei terreni a riposo è un primo elemento, probabilmente non sufficiente, e quindi sicuramente il dibattito europeo va in quella direzione. In questo momento l'insicurezza alimentare generata dall'invasione russa dell'Ucraina sta costruendo situazioni di instabilità in tutto il mondo. Per questa ragione noi crediamo che sia il momento di investire sempre di più nelle tecnologie. Ci sono tanti sostegni in campo al settore agricolo, a cominciare dal piano nazionale di ripresa e resilienza. L'iniziativa di oggi è sicuramente un'iniziativa molto utile perché rafforza la cooperazione tra due paesi mediterranei. Giudice di pace di Sant'Anastasia, arresti per avvocati, cancellieri e medici, un blitz della Guardia di Finanza. Cancellieri e operatori giudiziari dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Anastasia garantivano l'assegnazione di consulenze tecniche d'ufficio a medici, geometri e periti assicurativi compiacenti. In cambio ricevevano mazzette oppure diversi regali, dalle visite mediche gratuite, tamponi Covid, buoni carburante, lavori di ristrutturazione e anche generi alimentari. Tutto avveniva all'interno dell'Ufficio Giudiziario nelle abitazioni degli impiegati indagati. Un sistema chiuso, soltanto i professionisti che erano conosciuti dai dipendenti pubblici, ora smantellato dalla Guardia di Finanza e dai carabinieri attraverso un'indagine con numerose intercettazioni ambientali. In un'occasione sarebbe stata accertata anche l'assegnazione di una consulenza per un incidente stradale a un geometra privo dei relativi titoli abilitativi. Il sistema illecito era esteso anche ad alcuni avvocati legati da rapporti di stretta amicizia con indipendenti che potevano entrare liberamente negli uffici sottraendo anche documentazione dei fascicoli. E grazie alla compiacenza di cancellieri e operatori giudiziari ottenevano l'anticipazione della pubblicazione delle sentenze. 15 gli indagati tra cancellieri, operatori giudiziari, avvocati, medici e altri professionisti accusati di corruzione, occultamento di atti pubblici, falso in atto pubblico, truffa i danni dello Stato e depistaggio. Per tre cancellieri e tre avvocati sono scattati gli arresti domiciliari, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti del direttore amministrativo protempore della cancelleria del giudice di pace di Santa Anastasia e il divieto di dimora nel medesimo comune per otto professionisti. Nella stessa operazione è accertato anche l'utilizzo di valori bollati contraffatti da parte di due avvocati. Ospite in studio Gennaro Fenizia, già provveditore agli studi di Napoli, commendatore all'ordine al merito della Repubblica Italiana. Salve, grazie per aver accettato l'invito ad essere qui con noi oggi. Ben trovato. Grazie, grazie. È un'emozione incredibile. Allora, qui il dottor Fenizia per presentare uno spettacolo teatrale perché da provveditore poi dopo una lunga carriera in tante cariche importanti ha deciso di darsi al teatro con grande successo, con una compagnia importante e andrà in scena Napoli Milionaria. Allora, sì, è stata un'avventura molto bella. Andremo in scena al teatro Il Piccolo il 28 e 29 maggio. La compagnia è uno alla volta. Si chiama con la regia eccezionale di Fiorenzo Perrune e portiamo in scena chiaramente commedie o di Edoardo De Filippo o di Edoardo Scarpetta. È un'avventura. È un'avventura per noi che ci sentiamo poi partenopei nell'animo. E poi per me in particolare, ringraziando la bondà del regista che mi fa interpretare i ruoli di Edoardo, è un'emozione particolare, una grande gratificazione. Come è nata questa passione per il teatro? Dopo tanti anni di lavoro, insomma, intenso. Sì, è nata per curiosità, perché dopo un po' di anni che era andato in pensione, grazie alla conoscenza di un mio vecchio e caro amico, che purtroppo ora non c'è più, il dottor Domenico Marina, a cui va la mia gratitudine, lui era regista di una compagnia e allora io chiesi di sperimentare. Avevo questa curiosità di sapere se potevo nella mia vita, prima di morire, di fare l'attore. E così mi fece un provino e da lì è nata questa avventura che è iniziata nel 2011 e prosegue ogni anno e ringraziando anche il consenso che il pubblico ci dà, diciamo che va avanti anche con grande soddisfazione. Sicuramente allora d'attore ha sofferto molto il periodo della pandemia, quindi senza calcare le scene. Eh certo, noi siamo stati in grado di andare, l'ultima replica che abbiamo fatto è stata il primo marzo del 2020 e dal 10 poi hanno chiuso tutto. In particolare c'è mancato anche proprio quel clima di amicizia che c'era tra tutti gli attori e certo, lo dicevo, l'ho sempre detto, abbiamo perso la leggerezza della quotidianità. E ora per fortuna insomma le cose stanno riprendendo e il teatro io poi lo consiglierei a chiunque di cimentarsi perché specialmente quando uno diventa vecchiariello come sono io, aiuta molto a tenere la memoria, a sentirsi attivi. Lei ha scritto anche un libro, l'entusiasmante avventura di un provveditore agli studi. Le chiedo, lei si è trasferito ormai da tanto tempo a Roma per motivi lavorativi, però sicuramente continuerà a seguire le vicende napoletane. C'è un escalation di violenza tra i giovani impressionante e preoccupante. Quanto la scuola potrebbe e dovrebbe fare? Guardi, io lo dicevamo, io sono venuto esattamente 28 anni fa come provveditore agli studi e ho imparato ad apprezzare le grandi capacità e le grandi potenzialità della scuola napoletana con tutti i capi di istituto, i docenti, il personale ATA, il personale dell'amministrazione. L'importante, io questo l'ho detto sempre, chi ha la responsabilità amministrativa non dovrebbe preoccuparsi soltanto della pratica burocratica, ma dovrebbe capire realmente e comprendere la realtà giovanile che cosa sta attraversando, quale siano le loro esigenze e quale siano anche le loro difficoltà. Io dicevo, l'ho sempre detto a tutti, che ogni anno di scuola non era solo la crescita della mente, ma era la crescita della coscienza e chiaramente noi come scuola dovevamo dare una mano a costruire delle coscienze sane. La scuola non è che si deve sostituire alla famiglia, c'è la responsabilità di tutti, però l'errore che non si deve fare è quello di immaginare che la scuola viene apprezzata solo se burocraticamente pone in essere quelle che sono le disposizioni e i programmi, ma deve capire realmente chi è l'interlocutore e il giovane se non si sente coinvolto e se non è partecipe perde quello che secondo me dovrebbe essere fondamentale, cioè vedere la scuola come credibile ed affidabile, quindi in questo momento il crescere della violenza nelle scuole, che non è a Navoli, è sul territorio nazionale e che mi preoccupa molto, forse dovrebbe costringere un attimo chi ha il potere di decidere a capire realmente che l'importanza non è fare l'ordinanza, la circolare o applicare la norma in un certo modo, ma capire realmente quale siano le aspettative dei giovani, specialmente in un momento come questo dove è innegabile che i due anni di Covid hanno lasciato sicuramente dei segni, specialmente in quelle coscienze e informazione. Certo, lei giustamente dice che qualsiasi provvedimento va contestualizzato alle esigenze dei ragazzi, se non li coinvolgiamo non usciamo da questo vortice di violenza, è assolutamente fondamentale secondo me la pratica sportiva. Lei ha lavorato anche con il CONI per tanto tempo, vediamo invece che stentano a decollare gli impianti di periferia, lo sport diventa costoso soltanto per alcuni, invece lo sport dovrebbe essere un elemento aggregante per i giovani, per tutti. Certo, questo è giustissimo. Nella mia esperienza, oltre ad essere stato il capo ispettorato di educazione fisica e sportiva, ho lavorato con allora presidente Mario Pescante e facemmo nascere in un anno 254 associazioni scolastiche e sportive. Il problema, dottoressa, è questo, noi dobbiamo rendere la scuola, come io dicevo, non un posto dove c'è l'obbligo di andare, ma dove ci sia il piacere, la gioia di andare. Allora io devo lo sport, il teatro, la musica, cioè senza chiaramente abdicare a quello che è il compito della cultura e di dare la formazione anche mentale, però io dovrei essere veramente proteso, io che ho la responsabilità organizzativa, a creare un ambiente da cui i ragazzi non vedono l'ora di scappare quando suona la campanella della fine lezione, ma che possano in qualche modo sentirsi anche protagonisti nella scuola. E lo sport è la cosa più bella che c'è, perché lo sport per fortuna nella stragrande maggioranza è ancora qualcosa di sano, è una giusta competizione e poi, se me lo consente, quello che io dicevo ai ragazzi, lo sport insegna a rispettare chi ha perso, perché se non ci fossero coloro che perdono nelle sfide, non ci sarebbero i vincitori, allora chi vince dovrebbe conservare la capacità e la lucidità di ringraziare, di rispettare chi ha perso. Quindi lo sport, inteso in senso lato e applicato in maniera corretta, sarebbe realmente una scuola di vita per i ragazzi. Assolutamente. Prima di salutarci ci dica cosa scrive in questo libro, cosa racconta, qual è l'emozione predominante di questo scrittore. La spinta è stata una testimonianza, cioè io volevo che rimanesse la testimonianza di quanto fosse bella la scuola napoletana e in particolare ci tenevo a dare anche un messaggio ai giovani, cioè di essere ottimisti, di non arretrare, di sperare che tutto si può realizzare. Quando io sono arrivato da provveditore agli studi sembrava impossibile rilanciare la scuola napoletana, e invece non grazie a me, grazie a tutti quelli che hanno lavorato con me, della scuola, dell'ufficio amministrativo, credo che la sfida l'abbiamo vinta. Allora questo è un messaggio ai giovani, se avete degli obiettivi sani, se il vostro cuore vi indica qualcosa, non arretrate, continuate perché prima o poi si vince sempre. Allora nel ringraziare l'ex provveditore di Napoli, Gennaro Fenizia, ricordiamo l'appuntamento sabato 28 e domenica 29 maggio, la compagnia teatrale uno alla volta sarà a Napoli al teatro piccolo, con lo spettacolo come vediamo dalla locandina Napoli milionaria, la regia è di Fiorenzo Perrone. Allora, inviti i nostri telespettatori a venire al teatro. Guardate, non è sempre fatto apposta ma non è vero, nel senso che noi ci troviamo con questa commedia molto attuale nei momenti di oggi, con la guerra, con la difficoltà lavorativa. Allora per me è stato chiaramente un bagno di entusiasmo. Spero che chi deciderà di venire in libertà possa vivere quelle due ore veramente di emozioni e di gioia e perché no anche di divertimento. Allora grazie dottor Fenizia, invoca il lupo per lo spettacolo, arrivederci e buon lavoro. Grazie. Un protocollo siglato sui beni confiscati alla Camorra, Fondazione Polis e Università Partenope. Dipartimento di giurisprudenza e laboratorio sui beni confiscati dell'Università Partenope e la Fondazione Polis insieme per incontrare gli studenti e firmare un protocollo di intesa per la tutela e il riutilizzo dei beni confiscati. Dopo i saluti del direttore del Dipartimento Federico Alvino, del coordinatore del corso di studi Marco Esposito, la professoressa Carla Pansini, direttore del Master sul riutilizzo dei beni confiscati, ha presentato l'accordo sottoscritto con la Fondazione. Oggi secondo me è una tappa molto importante di un percorso che abbiamo iniziato con Polis da diversi anni. Io sono direttore di un Master di secondo livello che forma gli amministratori giudiziari. Il Master è già arrivato alla terza edizione, quindi con Polis avevamo già iniziato una collaborazione ovviamente sotto il profilo della formazione, anche per spiegare ai futuri amministratori giudiziari qual è il ruolo di Polis e soprattutto l'importanza del riutilizzo sociale dei beni. E quindi da cosa nasce cosa, da idea nasce idea e abbiamo deciso di fare questo protocollo, di sottoscrivere questo protocollo per impegnarci in prima persona, noi come Università e ovviamente la Fondazione Polis che lo fa da sempre, proprio per recuperare e restituire alla collettività i beni confiscati alla criminalità organizzata. La Campania è la regione con il più alto numero di vittime innocenti in Italia, ha sottolineato il segretario generale della Fondazione Polis, Enrico Tedesco. Esperienza e competenza, questo mi sembra la duplice valenza di questo momento di oggi, l'esperienza di una fondazione che da sempre si pone a fianco ai soggetti gestori, alle cooperative, alle associazioni ma anche ai comuni per dare una mano per il riutilizzo dei beni confiscati, la competenza che viene dall'Università, dal Dipartimento di Gisprudenza e sottoscrivere questo protocollo significa dare un colpo d'ali e uno strumento maggiore in questa regione al riutilizzo dei beni confiscati. Gernaro Scarpato e Pasquale Palma sul palco di Medi in Sud. Votaccio, votamme. Se iniziamo così diventa complicato, allora rifacciamo, diciamo bene nome e cognome. Gernaro Scarpato. Pasquale Palma. Allora c'è vita a Medi in Sud ma c'è vita anche nel panorama attoriale e interpretativo in questa città. Però partiamo dai due alienati che avete portato in scena che stanno riscontrando un grande successo. Questo che significa nell'immaginario? Ma significa sicuramente che l'alienazione che noi portiamo sul palco forse è tra i giovani, quindi è nella nostra società anche dopo un po' tutto quello che abbiamo vissuto. James Dean fece gioventù bruciata e noi stiamo raccontando una gioventù ustionata ormai. Noi volevamo fare una cosa surreale, non volevamo fare una cosa troppo reale e invece si è dimostrato essere più reale dell'idea che noi avevamo all'inizio. È nata prima della pandemia ma dopo la pandemia è diventata più attuale del solito. Ognuno di voi porta in scena un personaggio singolo, tu dialoghi con l'aldilà? Beh più che dialogare con l'aldilà cerco almeno di dialogare con l'aldiquà. No, io porto in scena questo rinning comico che è la parola di Geggiu. Mi sono immaginato che esista questo fratello di Gesù che non è ancora sceso al cielo quindi che non sta su ma che sta giù e si chiama Geggiu. Nasce dalla mia passione diciamo per i giochi di parole, per i Calembur anche un po' ispirati a quelli che erano quelli che ancora tutt'oggi fa Bergonzoni, Umberto Eco. Ha dei riferimenti molto impegnativi, Bergonzoni. Quando hai pensato a quelle lettere scritte alla fidanzata che tradisce, a chi ti ispiravi? I riferimenti miei sono molto più bassi, molto più bassi perché vengono dalla terra. Non ci sono riferimenti lì, c'è proprio il sangue che ribolle. Se il datore di lavoro ti abbandona e tu un giorno vuoi scrivere una lettera di buon compleanno lì credo che non ci vuole James Joyce ma ci vuole proprio il sangue che ribolle. No, diciamo che sono delle immagini che tutti noi abbiamo dentro ma che nessuno vuole esternare. Io le voglio esternare. Il buon compleanno alla fidanzata che ti ha lasciato non può essere allegro, deve essere così. Speriamo sicuramente di fare qualcosa di bello e di portare le nostre proposte in giro. Poi che sia teatro, che sia televisione, che sia anche perché noi il web ma l'importante è fare arrivare alle persone quello che uno vuole trasmettere. Sicuramente c'è il teatro dopo l'estate tra i nostri progetti. Ci sono i live d'estate, speriamo di portare un po' di allegria, di portare un po' di soldi a casa che pure non è sbagliato e di portare il nostro progetto sempre avanti. Vi ricordo che se volete interagire con la nostra redazione potete sempre farlo scrivendo al numero Whatsapp di Televomero 3394628565. Un servizio. Si allena in una palestra della zona flegrea di Napoli a due passi dal cratere naturale di Agnano. Il vulcano Nadia Capotosto, la culturista italiana che l'anno scorso ha sorpreso il mondo a Miss Olimpia la più importante manifestazione internazionale di culturismo che si tiene annualmente negli Stati Uniti dal 1965 e tornerà in gara con l'obiettivo di vincere. L'Olimpia 2022, Miss Olimpia. Mi emoziono anche soltanto a dirlo perché si vuol dire il sogno e l'aspettativa di tanti atleti e tante persone che fanno quello sport che faccio io e per me esserci arrivata e avere per il secondo anno consecutivo la conferma e il potervi partecipare è semplicemente un sogno. Si allena con grande forza Nadia sotto l'occhio vigile del terribile Enzo Iossa nella palestra Odyssey Gym di Via Diocleziano l'esercizio è al limite dell'impossibile per superarsi e andare contro i pregiudizi. In Italia è difficile da superare questa mentalità però nulla è impossibile quello che si può provare a chiedere alle persone è non guardare soltanto l'aspetto esteriore o il cambiamento o quello che visivamente si vede fuori ma guardare tutto quello che c'è dietro ogni sacrificio, ogni cambiamento muscolare, fisico e quant'altro perché non è semplice né cambiare fisicamente né farlo in poco tempo. Le finali dell'Olimpia 2022 si terranno dal 15 al 18 dicembre allo Zapposti a terra all'interno del Planet Hollywood Resort e Casinò situato nel cuore della strip di Las Vegas in questi mesi che la separano dalla gara Nadia sta caricando al massimo i suoi muscoli eppure non vuole essere un esempio consapevole che per arrivare al top occorrono sacrifici impressionanti. Bisogna superare se stessi, ogni giorno vincere la persona del giorno prima quello è lo spirito con il quale io affronto ogni giornata e dire oggi che cosa ha fatto Nadia o che domani deve essere meglio. È davvero tutto per questa edizione grazie per essere stati con noi una piacevole serata continuate a seguire i nostri programmi Arrivederci